Il pallone è intervenuto Sarek Mezjevic si complica la vita poi riesce a cavarsela sul borriello ma rischia sua bate poi playoff per la Lega Serba si è fatto male al ginocchio e nonostante questo infortunio è stato scelto al draft di quell'anno da gli aiutagenza Giocano anche con il cronometro i pari rallenta se possibile in qualche circostanza il ritmo della partita un po' perché ha speso molto un po' perché si andava comunque avanti nel punteggio e anche per fare allungare Canisianino che grande parata di Silvio in questa circostanza perché Alvarez dovrà rivedere la posizione di partenza c'è il giallo di Bodo qui l'arbitro ha visto l'intervento irregolare ma lasciando il vantaggio eccolo qua lo stiamo vedendo also along the power 3 la faccia è stata una cosa che si è vero e la buona impressione anche le mondi da doppio di marcatura dentro c'è anche Borriello valla buona per Abbrosini prova a girare Abbrosini di basso e poi Bergogl mette fuori ancora difeso bene il limocchio però l'inserimento Nicole, per favore non parka il motore, perché c'è un pollo di coilo. È un pollo. Ach, Axel, ogni mann è un pollo. Ma tu sei l'unico pollo. Riemi Dr. Römer. Da blieb der Mann stehen und drehte sich um. Es war Dr. Römer. Was mit uns die Spiele dazu bringen, Dinge zu tun, die wir gar nicht wollen? Erst. Da muss er gerade auf der 7, dem Part 3 Loch, das insgesa... Da muss er auch noch etwas tun, die wir gar nicht wollen. Was ist das für ein paar Tage? I don't know, aber er hatte... Me chied dir. I don't know, er hatte... Mi chied... Non so, ich habe noch einen Schöpfing. Da muss er auch noch eine Schöpfung.